Eccomi, sono la salva del Signore, si faccia di me come hai detto. Giuseppe, il bambino sta spingendo. Sta? Adesso? Adesso? Sì, ecco benvenne, siamo arrivati, troveremo un posto, te lo provo. Mi dispiace, a me non è possibile. Ti sopplico, non voglio entrare in casa tua, basta un posto colore. Posso tardi a tutti? Sì, ecco benissimo. Sì, ecco benissimo. Sì, ecco benissimo. Sì, ecco benissimo. Proverete un posto colpasso che giace in una mangiaduglia. Grazie a tutti. 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 Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Non abbiate paura. Grazie a tutti.